Ieri ho giocato molto bene, ho fatto 69, però qualche bogey, invece oggi senza bogey, quindi ho fatto 5 birdie, ho passato molto bene e adesso sulle seconde 9 ha soffiato abbastanza il vento e vediamo adesso il pomeriggio come giocano gli altri. Beh questo inverno sono andato in Asia a fare le qualifiche dell'Asian Tour, però purtroppo non le ho passate e gioco di nuovo l'Ipes Tour e queste sono le prime gare e speriamo di partire bene. Ho giocato sempre bene qua in Egitto e l'anno scorso penso un quarto posto e vediamo se possiamo fare la stessa cosa o anche meglio.